Fase 1. Scarica questa app dove puoi giocare per guadagnare soldi. Fase 2. Gioca ai tuoi giochi preferiti. Fase 3. Guadagni 500€ ogni mese semplicemente giocando. Ho provato questa app io stessa e ti mostrerò i miei guadagni tra un minuto inoltre. Ti mostrerò una prova di pagamento in tempo reale dal sito. È completamente gratuito utilizzare questa app e poi usarla sul tuo dispositivo. Oppure puoi anche usare il tuo laptop o computer. E la cosa buona è che in questo momento questa app funziona in molti paesi diversi. Sono persone come te e guadagnano oltre 500€ al mese da questa app. I migliori guadagni hanno persino guadagnato oltre 3.000€ da questa app. Hanno pagato oltre un milione di dollari ai propri utenti. Ora ti starai chiedendo come fanno tutte queste persone a fare così tanti soldi con una singola app. Questo è assolutamente reale e queste persone sono in grado di guadagnare così tanto. Perché l'app di cui stiamo parlando paga soldi veri per giocare per fare soldi con il telefono. Giocare per fare soldi è solo una delle tante attività secondarie di cui parliamo su questo canale. In questo video voglio mostrarti una nuova app che puoi usare per farlo. Nel primo passaggio ti mostrerò l'app e i giochi dove puoi giocare per guadagnare soldi online. Nel secondo passaggio ti mostrerò come puoi raddoppiare o aumentare i tuoi guadagni usando metodi secreti per fare soldi giocando. E nel terzo passaggio vedrai i guadagni sul sito e l'importo che puoi prelevare dal sito. Iscriviti al canale con le notifiche attive in modo da non perdere nessuna delle mie ultime strategie di lavoro per fare soldi online. E rimani sintonizzato fino alla fine per guadagnare di più con questa app. Ora il primo passo è passare al sito chiamato prizes.game.com Si tratta di premi del sito game di proprietà delle società. Che è una piattaforma di giochi che ti consente di fare soldi usando una qualsiasi delle loro applicazioni. Sta diventando molto popolare proprio ora su internet. E molte persone stanno scoprendo questa app. Le persone condividono i loro guadagni dal gioco su molte piattaforme diverse. E so che non puoi più aspettare per fare soldi. Quindi il primo passo è scaricare questa app sul tuo dispositivo mobile. Se hai un telefono Android l'app sarà simile a questa. E se hai iPhone l'app sarà seguente. E se stai usando un laptop o un computer devi semplicemente andare sul sito. E assicurati di scaricare l'app giusta. Ti lascerò anche un link a questa app nella descrizione di questo video. Quindi puoi scaricarlo facilmente. Ora fai clic sull'opzione di accesso nella home page. E registrati a questa piattaforma utilizzando il tuo account Facebook o la tua email. Una volta effettuato l'accesso per la prima volta ti daranno 100 punti in omaggio. Che puoi richiedere immediatamente pagano oltre 10.000 euro in premi ogni singola settimana. Ti mostreranno anche quanto hanno pagato fino ad oggi. Ci sono molti modi diversi per fare soldi con questa nuova app. Uno di questi modi è girare la ruota della fortuna. Come puoi vedere qui sotto ciò che devi fare è fare clic su di esso e girarlo. E puoi guadagnare soldi veri solo facendo questo. Ho appena guadagnato un euro per girare. Ne ottieni due gira gratis ogni giorno. Ma puoi farlo ancora e ancora. E continuare a vincere più premi facendo clic. Su questo pulsante che ti darà altri due giri ogni volta. La cosa buona è che puoi incassare i tuoi guadagni direttamente sul tuo account Paypal. Non appena raggiungi 10 euro il che è assolutamente fantastico perché non hai bisogno di molti soldi prima di poter ritirare i tuoi guadagni. E guadagnerai 10 euro su questa app. È molto facile. L'altro modo per fare soldi su questa app è giocando ai giochi che hanno. Quindi voglio che tu selezioni uno di questi giochi disponibili su questa app. Uno dei miei giochi preferiti è questo qui chiamato Color Heat. Non è davvero impegnativo. Tutto quello che devi fare è colpire le parti del bersaglio con lo stesso colore di quello dei tuoi birilli. Altrimenti colpirai il bersaglio sbagliato e perderai. Devi mirare al colore giusto al momento giusto e fidati di me è davvero divertente. E non dimenticare che stai facendo soldi giocando a questo gioco. Una volta completato vedrai quanto hai guadagnato giocando a questo gioco. Come puoi vedere ho appena preso altri biglietti. E nel caso ti stia chiedendo cosa esattamente sono questi, i biglietti servono per aumentare le tue entrate. Più biglietti hai, più soldi guadagni e puoi partecipare a più premi. Quindi inizia a raccogliere più biglietti che puoi giocando. Ora il secondo passaggio per radopeare o addirittura triplicare i tuoi guadagni devi tornare nella sezione dei premi. Puoi vedere che devo raccogliere solo 10.000 biglietti in più per poter partecipare a questo giveaway. Avere la possibilità di vincere un po' di questo denaro gratuito e guadagnare 10.000 biglietti è solo questione di 30 minuti perché puoi raddoppiare i tuoi biglietti ogni volta che li guadagni. Ad esempio hai giocato a qualsiasi gioco e guadagnato punti. Ora puoi vedere questa opzione. Per raddoppiare basta fare clic e ti mostrerò un orologio pubblicitario, un annuncio. Dopo potrai raccogliere il doppio della quantità di biglietti guadagnati. Ora se fai clic su questo pulsante ti verrà mostrata la pagina del monte premi. Come puoi vedere ti mostrerà quanto puoi vincere a seconda di dove ti trovi nella classifica. La prima persona riceverà 750 dal secondo e al quinto premio. Ti farà guadagnare 100 euro a persona. Se sei al decimo premio ti farà guadagnare 10 euro a persona e così via. Nella sezione premi troverai anche altri omaggi gratuiti come questo jackpot da 10.000 euro in contanti e 100 euro in contanti. Per vincere questo jackpot da 10.000 euro fai clic su questa casella gialla sotto questa. Poi devi scegliere 5 numeri casuali e un numero fortunato. Puoi ovviamente guadagnare i biglietti in altri modi come finire le missioni nei giochi invitando gli amici che fanno girare la ruota della fortuna partecipando a tornei e molti altri. Ma giocare è di gran lunga e in modo più semplice per guadagnare i biglietti. Qui è divertente e ovviamente guadagni un sacco di biglietti se ti capita di completare le tue missioni. Il sito ha la maggiore collezione di giochi e non ti fa mai sentire annoiato perché puoi scegliere da centinaia di giochi divertenti e stimolanti per fare soldi. Fai clic su uno di questi e verrà caricata la pagina del gioco per te e puoi iniziare a giocare immediatamente e iniziare a raccogliere quei biglietti. E perché voi ragazzi state ancora guardando? Perché ho un suggerimento bonus secreto per voi che vi aiuterà per guadagnare 10 volte di più biglietti rispetto ad altri in meno tempo. Per questo devi fare clic sulla sezione offerte migliore proprio qui e ti porterà a questa pagina. Come puoi vedere puoi giocare ai tuoi giochi preferiti e popolare qui e guadagnerai ovunque tra 3.000 biglietti fino a 300.000 biglietti per partita. Che giochi? E ci sono molti giochi. Tutto quello che devi fare per guadagnare questi biglietti è installare il gioco e finire alcuni livelli. Come puoi vedere alcuni hanno realizzato il miglior guadagno di tutti i tempi oltre 7.000 e ci sono molte altre persone che fanno soldi proprio così. E puoi guadagnare come loro se sei regolare e attivo sul tuo conto ma non accadrà se non trascorre del tempo in questa app. Hanno anche alcuni tornei dal vivo a cui puoi assolutamente partecipare. Ovviamente devi essere bravo a giocare a questi giochi perché stai gareggiando contro un gruppo di altre persone. Ora il terzo passaggio è il processo di prelievo. Prima di mostrarti come fare ti piacerebbe per spiegare il concetto di questa app di giochi. In pratica il guadagno dell'app proviene dai diversi annunci che guardiamo e dalle diverse app che installiamo. Condividono le loro entrate con noi in cambio di giocare e trascorrere del tempo sulla loro app. Quindi ecco come prelievare i tu guadagni. Da questa app come puoi vedere ritererò questi guadagni sul mio account Paypal. Clicca sull'opzione di prelievo. In questa pagina puoi vedere l'importo che hai guadagnato fino ad ora. Clicca nuovamente sul pulsante di prelievo e nella pagina successiva inserisci i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e le modalità di pagamento. Quindi premi in via in basso. Ora attendi un po' di tempo e ti sarà accreditato nel tuo account Paypal. Puoi fidarti che questa app funziona davvero e ti paga soldi. Commenta in basso se hai domande o vuoi condividere la tua esperienza. Per oggi è tutto. Iscriviti al canale e clicca sul video che appare sullo schermo. In questo momento per guadagnare di più.